Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi è nostra gradita ospite la professoressa Cristiana Catena che è professora appunto ordinario di medicina interna all'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, tra l'altro è direttore della scuola di medicina interna dell'università di Udine, appunto da facoltà di medicina, insomma del dipartimento di medicina e poi è responsabile anche della clinica, del centro di ipertensione per le malattie cardiovascolari all'interno della clinica medica. Buongiorno. Buongiorno. Tanti ruoli, tanti ruoli importanti, determinanti. Parliamo un attimo anche della scuola di medicina interna di cui lei è direttrice. Quanti sono adesso gli specializzanti che segue? Allora noi abbiamo diciamo tre scuole dentro la nostra clinica, medicina interna, geriatria e medicina d'urgenza. Ognuna ha un suo direttore e diciamo che il numero di specializzanti che vi accedono ogni anno è variabile. Per esempio quest'anno in medicina interna sono entrati nove specializzanti, in altri anni di meno, in altri anni di più. In medicina d'urgenza gli specializzanti che entrano poi seguono un percorso esterno al nostro reparto perché devono frequentare ambienti tipo pronto soccorso eccetera eccetera. Ecco forse è più difficile trovare specializzanti soprattutto in medicina d'urgenza. Almeno sentivo anche in altre regioni italiane che ne cercavano anche da collocare, da sistemare. Teniamo conto che è impegnativo. È una specializzazione che è abbastanza nuova e comunque devo dire che è piuttosto amata dai giovani medici neolaureati. E quindi c'è la necessità di avere numeri maggiori. Sì diciamo che essendo una specializzazione nata da poco prima che sforni un adeguato numero di colleghi specializzati in quel campo ci vorrà qualche anno insomma. Sì quindi un percorso che dura quanto tempo professoressa? Perché la specializzazione? Medicina interna dura cinque anni, geriatria dura quattro anni. Ecco anche per geriatria c'è la necessità no? Effettivamente sul territorio. Eh sì esattamente sì 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 sì. C'è necessità di un po' di tutto. Sì sono delle specializzazioni molto 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 richieste. Molto richieste e appunto prima che effettivamente ci sia una copertura sarà necessario un po' di tempo in sostanza. Eh sì sì. Dovremmo aspettare qualche anno. Senta professoressa Catena, lei è reduce da un successo molto molto importante. Io penso che che lei ne sia molto orgogliosa perché ha ricevuto questo 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 premio Recti Eques e praticamente lavori di paladini italiani della salute. Sì. Ed è un ed ha avuto e al patrocinio del Consiglio dei Ministri. Quindi lei è stata in Campidoglio, ha ricevuto questo premio e mi dica qual è stata la sensazione? Veder coronare praticamente no? Tutto un... Ma diciamo innanzitutto che ovviamente c'è l'orgoglio di aver fatto qualcosa di... che è stato ampiamente riconosciuto a livello italiano e a me preme dire che non è un lavoro che io ho svolto, un lavoro di ricerca che ho svolto da sola ma sono stata ampiamente aiutata sia da colleghi del centro ipertensione che è diretto dal mio direttore, il nostro direttore che è il professore Leonardo Secchi e anche abbiamo avuto l'ausilio del personale del reparto di malattie infettive perché è lì che noi abbiamo svolto questo in pratica il lavoro diciamo la parte pratica del lavoro sui pazienti e per cui devo ringraziare queste persone che questi colleghi che mi hanno tantissimo supportato quindi il merito assolutamente non è solo mio. Io ho presentato il lavoro, abbiamo scritto il lavoro e è stato scelto in una gamma di un centinaio di altri lavori di altri colleghi di vari campi della medicina, anche medicina di base come l'immunologia, due colleghe friulane che hanno vinto lo stesso premio si occupano di immunologia e di biologia molecolare per cui il premio ha coperto tantissimi campi della salute quindi c'è sicuramente l'orgoglio comunque di vedere apprezzato un tuo lavoro tra relativamente pochi perché in pratica sono stati premiati meno di cento, un centinaio di colleghi in tutto che hanno ricevuto questo premio questo riconoscimento Parliamo del lavoro che avete svolto, praticamente la vostra attenzione si è incentrata in particolare su che cosa? Sì, allora lo riassumo in maniera molto breve Diciamo che quando è cominciato il problema della pandemia, quindi un annetto fa c'erano dei pazienti che venivano ricoverati in reparti con diversa intensità di cure ovvero pazienti con diversa gravità di patologia polmonare indotta dal covid Quando i pazienti guarivano e venivano dimessi, ovviamente effettuavano delle visite di controllo programmate per vedere come stavano andando nella loro convalescenza In questo momento, ovvero poco dopo la dimissione, noi colleghi del centro ipertensione andavamo nel reparto di malattie effettive negli ambulatori e li effettuavamo con uno strumento che si chiama ecocardiografo, un'ecocardiografia molto molto dettagliata per vedere se vi erano delle alterazioni o della struttura o del funzionamento del cuore appunto focalizzando l'attenzione su molti 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 parametri che molti dei quali non vengono neanche comunemente valutati quando si fa l'ecografia diciamo di prassi e questo lavoro l'abbiamo svolto su 105 pazienti appunto appena dimessi dai reparti insomma dove erano ricoverati per le polmoniti da covid e abbiamo confrontato poi tutti i dati ottenuti, tanti dati abbiamo ricavato con un gruppo analogo di persone sane, cioè di soggetti sani, quindi non di pazienti perché qual era l'obiettivo? Vedere se questo virus nuovo e sconosciuto oltre a dare quelle che erano evidenti patologie dell'apparato respiratorio potesse anche influenzare in maniera negativa altri organi apparati e ovviamente una delle prime cose che preoccupano è l'eventuale danno cardiaco questo nessuno lo sapeva perché appunto questa malattia era nuova era una grande preoccupazione questa e per cui era quasi d'obbligo cercare di capire se c'era questo rischio oppure no e in letteratura c'era già qualche dato però ovviamente su studi un pochino diversi fatti anche con metodiche un po' diverse per esempio con la risonanza magnetica anziché con l'epografia, pazienti diversi come tipo, anche come trattamenti per cui è un po' difficile confrontare, in quel momento era difficile confrontare i nostri risultati con quel poco di letteratura che c'era in quel momento c'era qualcosa di diverso per esempio rispetto a quello che abbiamo trovato noi in soldoni quello che abbiamo trovato noi è che nei pazienti recentemente diciamo diagnosticati e poi dimessi dai reparti di cura per il covid noi non abbiamo trovato un danno della struttura o della funzione del cuore va detto che questi pazienti, 75 circa, li abbiamo richiamati dopo un paio di mesi per vedere se le differenze, cioè i risultati diciamo non significativi per fortuna nel senso che non abbiamo trovato un danno indotto dal virus in pazienti recentemente diagnosticati però era possibile che magari un eventuale danno si sviluppasse a distanza di qualche mese per cui un tre quarti di questi pazienti li abbiamo richiamati e rivalutati a un paio di mesi di distanza è ovvio che si tratta di un lavoro che comunque ha un follow up breve ovvero sono pazienti che sono stati valutati precocemente quello che noi vorremmo fare quando si potrà logisticamente è cercare di richiamare questi pazienti, rivalutarli per vedere se magari alla lunga si può sviluppare qualche alterazione morfo funzionale cardiaca quello che facciamo in pratica era andare appunto negli ambulatori del reparto delle malattie infettive dove i pazienti venivano a fare i controlli, venivano a fare i prelievi io con l'ausilio di un collega effettuavamo un'ecografia del cuore molto dettagliata ovviamente con tutte le precauzioni, la vestizione eccetera quello che bisogna fare, che si vede in televisione con il consenso del paziente e poi ovviamente tra un paziente e l'altro c'era anche un tot tempo da perdere perché bisognava poi disinfettare tutta la stanza, comprese anche le maniglie, lo strumento per cui era un pochino pesante anche proprio fisicamente per noi perché tutto il giorno facevi questa cosa qua, quindi un lavoro fisicamente impegnativo poi la parte di ricerca l'abbiamo svolta, l'analisi statistica l'abbiamo svolta quando abbiamo raccolto tutti i dati, compresi anche alcuni dati biochimici per integrare il lavoro insomma il risultato finale è che nei pazienti ricoverati sì, praticamente avete riscontrato sì, che cosa avete riscontrato in soldoni? che nessuno che nei pazienti che avevano avuto la malattia di recente sì, non hanno non c'era l'evidenza di un danno strutturale o funzionale del cuore almeno visto con l'ecocardiografia bene, quindi un risultato molto importante che getta le basi anche diciamo che è un risultato tranquillizzante sì, infatti perché almeno abbiamo non trovato un danno praticamente escluso, no? è stato escluso o qualche cosa? sì, perlomeno nei pazienti come dire recentemente affetti dalla patologia poi sarebbe il caso di effettuare lo stesso tipo di studio dopo un tempo più lungo, cioè con un follow up si dice più lungo, circa di un anno per esempio cosa che speriamo di fare quando diciamo la logistica lo consentirà in sostanza sì, la patologia momenti migliori, no? i momenti migliori, sicuramente bene, professoressa Catena io la ringrazio per essere stata con noi è stata molto gentile spero di averla ancora nostra ospite per parlarci di tante cose perché sappiamo che appunto lei è anche referente, appunto responsabile della clinica del centro appunto di ipertensione sì, il responsabile il professor Secchi sì, comunque lei faccio parte del gruppo fa parte del gruppo e quindi magari venirci anche a parlare dell'attività volentieri parlare di prevenzione volentierissimo grazie grazie per essere stata con noi grazie a tutti grazie a tutti Cristiana Catena grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito e noi con la rubrica Femini, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo sempre alla stessa ora arrivederci grazie a tutti